Sono grandi forze, però queste erano le intenzioni relativamente all'accordo che abbiamo fatto con i temani, con i ministeri dei beni culturali per acquisire quest'area. Era una fantasia, è quello che diciamo ai cittadini di Castiglione dell'Arco, che quest'area può diventare, io credo, la più grande ricchezza di Castiglione dell'Arco. È un passaggio su quelle vicende che hanno portato ad oggi, ma soprattutto parlare di questo progetto. Io cercherò di rispiegarlo in maniera semplicissima. Indispensabili per collaborare con questo progetto, noi intanto abbiamo già individuato i soggetti con i quali pensiamo di collaborare, ma non è precluso, nel senso che siamo pronti a accogliere e a valutare anche altre proposte. Quindi, su quello che noi immaginiamo qui dentro, c'è una superficie che pensiamo possa funzionare, perché il volo da dire è appunto la storia del volo, la storia dell'aeroporto, c'è quello che è nato come acquario, che noi nel progetto stiamo un po' rivedendo, farlo essere un po' il luogo in cui... La regge aeronautica, perché nel frattempo l'esercito aveva trasferito la regge aeronautica, decide di trasferire una scuola caccia che era a furbato vicino a Roma, perché l'ambiente era malarico, era umido, decide di trasferirla a Castiglione. Quanto pari fossero, da 26, l'hanno inaugurato in 31, quindi ci sono voluti degli ambiti, degli esprochi, dei castiglioni, quindi siete quasi in vita, siamo, perché poi il castiglionese... Sì, grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.